Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 3 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Godot arriva con calma. Per più di mezza giornata la luna se ne sta imbronciata a sfogare i nervi nella vostra dodicesima casa, distratta dalle chiacchiere di Mercurio e Nettuno che nel tentativo di consolarvi la mandano in confusione. Strano per intellettuali nervosi del vostro calibro cercare consolazione non nella lettura o nel dibattito colto, ma nello sprizzo nel gelato, piaceri sensoriali che di regola snobbate, evocandone altri ben più sottili e di alto livello. A cambiare radicalmente la vostra situazione due eventi planetari, entrambi favorevoli, il primo riguarda il vostro astro guida che dal sogno cancerino passa all'eloquenza e al pensiero illuminato del leone, così sicuro di sé da mettere a tacere tutti i dubbi di Plutone che gli si oppone. Ma i risultati non sarebbero così esaltanti se poco più tardi anche la luna non cambiasse alloggio, posizionandosi nel vostro segno, sotto il raggio ottimista e incoraggianti di Giove, che vi garantisce la vittoria assoluta su tutti i fronti. Il rapporto d'amore si è affatto possessivo, materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. I nati di lunedì si sentiranno particolarmente agitati, colpa di Marte che si oppone. Siete nei pensieri di una persona, soltanto se sapeste chi è e fareste i salti di gioia. Però non datevi pensiero, molto presto scoprirete chi è. Cerca di evitare situazioni stressanti e cure dimagranti troppo drastiche.Spese per bellezza e look. Avrai voglia di divertirti. Una lieta sorpresa. Serata per alcuni piacevole, per altri piacevolissima. L'amore sarà bello, ti darà la sensazione di camminare sulle nuvole. Giornata piuttosto opaca che sarà seguita però da una migliore serata e per i nati di domenica una notte quasi indimenticabile. Solo gli alti e bassi della mattina potranno darvi qualche piccolo problema. Potrai fare ottimi affari. Regala qualcosa di speciale alla persona che ami. Oggi potreste ricevere degli apprezzamenti lusinghieri, ma le persone da cui provengono non meritano la vostra attenzione, se proprio non potete farne a meno abbiate cura che non facciano danni. Sogni veritieri in questa settimana, quello che sognerete potrebbe avverarsi. Non rammaricatevi per le scelte fatte, piuttosto per quelle che non avete avuto il coraggio di fare. La luna è felicemente ospitata nel vostro segno dal pomeriggio. Ma, la novità del giorno, è l'ingresso di Mercurio nel segno amico del leone che promuove la notevole socievolezza che voi già basilarmente possedete. Il pianeta resterà in questo segno amico fino al 25 di questo mese di luglio. Una buona condizione emotiva accompagna questa giornata e vi consente di comprendere le situazioni con umanità e sincera empatia. Per buona parte della giornata la luna imbronciata rimane nelle retrovie, insieme a urano nevrotico, indizio della vostra profonda insoddisfazione. A ribadirlo anche Saturno e Nettuno allo Zenit, vorreste qualcosa di introvabile, perché non esiste più o non esiste ancora, insomma, ieri o domani, ma l'oggi dove sarà? Il promo cambiamento lo registrate nel pomeriggio, col passaggio di Mercurio nel segno amico del leone, dove subito affronta Plutone, facendogli lo sgambetto e vari dispetti. Poco più tardi anche la luna entrerà in casa vostra abbracciando Giove ottimista e generoso, ma soprattutto giramondo, sempre assetato di nuove esperienze, viaggi e piaceri. E allora sciambola. Amore ed Eros. Un bel messaggino d'amore fresco come un gelato alla frutta, questo sì che fa piacere, restituisce alla giornata una sferzata di ottimismo. Se poi si tratta di una delle scuse del partner che dopo una litigata plateale torna ragionevolmente su suoi passi, queste parole tenere vi faranno ancora più piacere, riconosce di aver sbagliato dunque la ragione è tutta vostra. Sereni i rapporti con gli amici e i fratelli, a farvi arrabbiare oggi sono piuttosto genitori e suoceri, il divario generazionale si fa sempre più accentuato, non li capite e loro non capiscono voi. Lavoro e denaro. Da qualsiasi parte lo pigliate, in azienda o in proprio, oggi siete sfasati e i risultati si notano fin da subito, errori di distrazione, fatica a tener dietro al ritmo consueto, ritardi nelle consegne, insofferenza nei confronti del vostro capo che insiste a ricordarvi le scadenze in agenda. Se poi un imprevisto o un errore che salta fuori all'ultimo minuto vi fa perdere altro tempo prezioso. Cominciate ad andare in fibrillazione perdendo la bussola. Premio di consolazione all'uscita qualche acquisto in promozione o un bel gelato goduto facendo due chiacchiere, piccoli piaceri comunque sufficienti a raddrizzarvi l'umore. Benessere. Tra mal di stomaco, di testa e di schiena benessere è davvero un parolone che tutt'al più, non potendolo applicare al fisico, collegate al cuore e alla mente, soddisfatti dalla vita sociale e da un rapporto che dopo un ligio si rimette in piedi. Già in vacanza occhio alla carezza ruvida del sole, che vi arrossa la pelle squamandola. Guai a non idratarle e a restare anche voi senza riserve idricche. Se siete a corto di zuccheri e la stanchezza si fa sentire subito ricorrete alla buona frutta, melone e anguria dissetanti, l'infinita varietà delle rosace estive, pesche, albicocche e prugne una goduria non stop. Denaro. Ricordate che avete il pianeta della regolazione dei conti, Saturno, ostile. Per il momento se avete progetti su come impiegare il vostro denaro, è bene, che non vi lanciate in modo azzardato come di solito fate. Per lei, inutile lamentarvi perché avete messo su mezzo chilo, dolci, gelati, frutta estiva. Aggiungeteci poi che con la scusa del caldo disertate anche la palestra due volte su tre. Tranquille, camminando per ore con lo zaino sulle spalle sui cammini spirituali vi asciugherete. Per lui, leggere, viaggiare, incontrare facce nuove, scambiare parola con loro, meglio se in lingua straniera, imparate così facilmente. E state piena di promesse, non vedete l'ora di partire, mettendo alla prova la vostra fama di giramondo. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.